Come è un'esperienza importante? I due grandi trend del futuro, a mio parere, e l'azienda mi conferma, sono l'innovazione e la sostenibilità. Noi abbiamo fatto questa scommessa di coniugarle, sposarle, la parola chiave per noi sarà innovability. Io credo da uomo di innovazione, anche di tecnologia esponenziale, quindi innovazione molto spinta, credo moltissimo all'innovazione purché molto ben orientata. Onde rischiare che la tecnologia privada le nostre vite senza un orientamento. E quindi l'innovazione per me ha senso se è fortemente sostenibile. Così come la sostenibilità, per avere senso, deve essere però fortemente innovativa. Il rischio di quest'ultima, altrimenti, è relegarsi a una dimensione di impatto ambientale, che non è certamente periferico, è un tema centrale, ma non è il solo. E l'innovazione fino a se stessa è sterile, deve essere sempre funzionale a una relazione, nuovamente a un impatto. Da qui l'idea di innovability. Per cui grandissima gioia, è un'avventura importante. Ci sono solo due innovability manager in Italia, uno sono io e l'altro Ernesto Ciorra di Enel, azienda leader nel settore dell'energia a livello mondiale, e quindi contento. Dobbiamo in qualche maniera affermare dei principi di alta portata valoriale nella nostra industria, perché il mercato ce lo chiede. E quindi arriviamo al punto, sostenibile. Può esserci una finanza non sostenibile? Ma mi chiedo, può esserci un mondo non sostenibile? Può esserci una vita non sostenibile? Forse fino a ieri abbiamo dato per scontato che non fosse un tema. Oggi il mondo, l'umanità, il pianeta reclamano una grande attenzione. E io credo che la finanza sia l'industria che più di tutte deve guidare lo shift, il cambiamento. Deve essere essa stessa sostenibile e deve contribuire in maniera molto importante alla sostenibilità di tutto il sistema economico. Quindi mi auguro che non sia uno slogan, mi auguro che non sia un trend, mi auguro che non sia una moda, perché le mode sono fatte per loro natura, per passare. Non oso pensare cosa possa esserci più di moda della sostenibilità. Quindi, come dicevo, da un lato momento di gioia, per la consapevolezza, dall'altro di riflessione. Allora, io sono un grande amante dell'innovazione. La parola innovability è fatta da innovazione e sostenibilità. Innovation è sustainability. Io amo molto studiare il significato delle parole. La parola innovazione, stante almeno al mio vocabolario, significa alterare l'ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove. Noi dobbiamo fare cose nuove. Il concetto di nuovo in termini di innovazione è un concetto che viene un po' travisato, così come quello delle start-up o della industria 4.0. Oggi non basta aprire un negozio di frutta e verdura per dire ho start-upato un'attività. Eppure tanti stanno dicendo questo, stiamo semplificando troppo. La vera innovazione è quell'innovazione veramente disruptive, quindi non è l'evoluzione incrementale, non è l'evoluzione evolutiva, che sono livelli di miglioramento di uno status. L'innovazione è alterare l'ordine prestabilito per fare delle cose nuove. E le uniche cose nuove possibili oggi sono cose sostenibili, cose rivolte al bene. E anche qua gioco con le parole, è stata una epifania per me andare sul vocabolario e alla parola economia scoprire che il significato fosse arte di reggere e ben amministrare le cose della famiglia e dello Stato. Noi facciamo arte e l'arte per sua natura produce bellezza. E soprattutto dobbiamo farlo bene. Bene non è solo in maniera redditizia, bene è in maniera sostenibile.